Sono più di 45.000 i gatti triestini, dei quali almeno 5.000 sono randaggi, divisi in circa 700 colonie. È dedicata soprattutto a loro l'iniziativa del Comune in occasione della Festa Nazionale del Gatto, che si celebra oggi. Ieri l'assessore Lobianco ha consegnato le prime tre casette acquistate dall'amministrazione comunale attraverso l'ufficio zoofilo a due dei gattari di fiducia, Gianni Bergamo e Vincenza Di Gennaro. Le nuove casette, che sostituiranno quelle posizionate nel 2005, saranno in tutto quasi 400. E quindi ho ritenuto oggi di consegnare ai primi due gattari, insomma, e ne seguiranno ovviamente degli altri, delle casette che andranno a sostituire quelle già marcescenti o comunque rovinate. E questo ovviamente per voi il decoro urbano, voi per la tutela della popolazione felina randagia. E questo appunto non poteva che accadere in una giornata di festa come quella nazionale del gatto. Ho voluto celebrarla così. A beneficiare delle prime casette saranno i gatti di strada delle zone di Via Herrera, Via Caboto e Via Carletti a Borgo San Sergio. Alla gestione quotidiana provvederanno come sempre i volontari per quanto riguarda cibo, acqua, pulizia e segnalazione delle gatte da sterilizzare. Grazie.